Gli altopiani di Colfiorito sono un sistema di altopiani carsici situati al confine tra Umbria e Marche. Sono un'oasi protetta del WWF e presentano la flora e la fauna tipiche dell'appennino umbro-marchigiano. Un immenso altopiano dalle caratteristiche eccezionali. Il paesaggio delle pianure e delle colline carsiche è rimasto quello immutato nella storia delle civiltà agricole e pastorali dell'appennino. Un'antica armonia tra attività agricole e ambientali naturale che si rivela tra i viampi altipiani caratterizzati da dolce colline dove si alternano zone umide, boschi, pascoli e aree coltivate e non mancano bellissimi castelli come questo. Gli altipiani di Colfiorito e Plestini sono costituiti da sette cavità carsiche che nell'antichità erano lati. La palude di Colfiorito è attualmente l'unica zona montana dove l'acqua rimane tutto l'anno ed è soggetta a variazioni di livello stagionale.